Il dribbling, bel disimpegno di Puscuzza, Vasilicioca, il laterale sinistro, Prodius, affrontato da Del Piero, il lancio per le punte, lo stacco buono dei nostri giocatori, era Falcone, e poi il tiro dalla lunghissima distanza è il goal di Michele Angio. In classifica, Ucraina e Croazia 12, Italia 10, Slovenia 7, Lituania ed Estonia 0. Grazie per la visione!